Sarà il conte Gaddo della Gherardesca insieme alla cooperativa a Gorà a restaurare il cinquecentesco palazzo Guillichini in Corso Italia ad Arezzo. L'edificio, un tempo in parte sede del Cinema Corso, occupa un bello spazio lungo la principale strada del centro cittadino e da tempo era vuoto. Il recupero storico-artistico della costruzione, un bel esempio di architettura rinascimentale, permetterà di ospitare all'interno della stessa una residenza sanitaria assistita per anziani, gestita dalla cooperativa sociale e consortile la Gorà d'Italia. Il progetto curato dall'architetto Mario Bartolomei sarà ufficialmente presentato lunedì prossimo alla presenza delle autorità e dello stesso conte che la scorsa settimana ha effettuato un sopralluogo ad Arezzo incontrando il sindaco Alessandro Ghinelli.